Un altro grande applauso a Samsara Club che ci ha deliziato con delle fantastiche danze orientali, grazie, grazie mille. Dopo aver appreso le tecniche del loro ballo ci scaldiamo ancora un po' con il gruppo degli oratorio di Gallarate con altri balli, altre animazioni. Allora siete pronti? Genitori siete pronti? Dov'è la coppia qui davanti? Mi manca la coppia qua davanti che scoppiettava. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.